Allora, buongiorno, diamo in inizio al nostro clipino, nostro piccolo clip, si chiama il clipino. Allora, ci vedrai, cosa va, da... Vasco, sono il tuo legale. Cioè, legale, è mio legale. Legale, sì, legale. Io sono legale, vabbè, è un legale. Hai letto cosa c'è scritto su non ciclopedia? Non ciclopedia, non ciclopedia. Non ciclopedia, sì. Eh, no, ma cos'è? Cos'è? La versione satiridica di Wikipedia, no? Wikipedia, eh, eh, Wikipedia, sì. Non conosci Wikipedia? Eh, Wikipedia, cos'è? Ma è l'enciclopedia libera. Libera, 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 siamo poi. No, 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 non è quello, no. È un'enciclopedia, non conosci l'enciclopedia? L'enciclopedia? Non conosci l'enciclopedia? Non conosci l'enciclopedia? No, l'enciclopedia no. Vabbè, Wikipedia comunque è un sito, non conosci un sito? Un sito? Un sito, no, sito, sito no. Vasco, un sito, un sito internet, internet, la rete. Vasco, sono senza parole. Senza parole! No, 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 Vasco, no. No, vabbè, ok. Il sito internet si visita tramite un computer, Vasco. Conosci un computer? È un computer? No, com'è un computer? È un computer? Cos'è? Cos'è un computer? È un computer. Cos'è un computer? Vasco, non conosci un computer? È quello che hai davanti, Vasco, quello che hai davanti. Ah, è un computer questo? Sì. Ah, questo è un computer? Sì, sì. Computer? Computer, sì, sì. Ah, è un computer. Vasco, dobbiamo procedere con qualcosa, dobbiamo fare qualcosa. E che cosa? Vogliamo denunciarli? No, no, no. No, allora, io sono contro la censura. No, la denuncia? No. Però ho un'idea migliore. Come sapete? Censuriamo. Te, sì, sì, dico proprio a te. Ma come la pensi, eh? Mi raccomando, faccio lo sapere qua sotto, eh? Mi raccomando, comenta. Non te ne andare subito, eh? Mi raccomando. E mi raccomando, iscriviti al canale del Vasco di Pardegna. Mi raccomando. E anche a quello di The Holy Book, che è di qua, capito? È lui. Lui è The Holy Book. È lui, è il Vasco di Pardegna. Capito? Capito. Ciao. Vivevi, vivevi. Ciao, ciao, eh, ciao.